Sui nostri media non compare nulla, ma negli Stati Uniti se ne parla, e come se se ne parla. Alla mezzanotte del prossimo 30 di settembre, insomma fra quattro giorni infatti, qualora non verrà trovato nel frattempo un accordo, scatterà lo shutdown. Ora cerco di chiarire di cosa si tratta e quali conseguenze possa avere. Allora innanzitutto diciamo cosa si intende per shutdown, cioè per shutdown si intende il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti. Quindi non vengono erogati anche gli stipendi pubblici e molti dipendenti della pubblica amministrazione e quindi rischiano di essere mandati a casa con un congedo non retribuito. Ovviamente però le autorità federali continuano a garantire i cosiddetti servizi essenziali, come la sicurezza nazionale, la sanità, le pensioni e la giustizia. Insomma avete capito, non è una cosa da poco, anche se per la verità lo shutdown si è verificato diverse volte. Ebbene negli Stati Uniti l'anno fiscale inizia il primo ottobre, quindi entro il 30 settembre il congresso deve trovare un accordo sui fondi da stanziare per finanziare le spese federali degli Stati Uniti, ossia quelle del governo americano. Fra quelle spese l'amministrazione Biden vuole inserire altri 24 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina, una spesa che ormai è diventata molto impopolare e trova contrari repubblicani. Gli americani non ne possono più, ormai è uno stilicidio continuo insomma. Allora, torniamo indietro di qualche mese e mettiamo, diciamo, altra carne al fuoco. Già nei primi mesi dell'anno, di quest'anno, l'amministrazione Biden aveva sforato il tetto sul debito pubblico ed avevano pesato anche i miliardi e miliardi di dollari devoluti all'Ucraina. Per evitare lo shutdown, l'amministrazione democratica doveva trovare un accordo per innalzare il tetto del debito, un accordo che fu trovato appunto con i repubblicani, fu trovato in extremis, fra l'altro senza fissare un nuovo tetto al debito. Di fatto è stato un regalo che i repubblicani hanno fatto ai democratici. In pratica, insomma, i repubblicani hanno calato le braghe. Visto che tutti i mezzi di comunicazione di massa sono in mano ai democratici, allora i repubblicani temevano che avrebbero attribuito a loro tutta la colpa dei mancati stipendi e i dipendenti pubblici e le inevitabili ripercussioni sui mercati finanziari. Temevano così che, insomma, danneggiando alcuni dipendenti pubblici potessero avere per questo delle ripercussioni a livello elettorale. A mio avviso un timore assolutamente infondato. I voti dei dipendenti pubblici vanno già in ogni caso al Partito Democratico. Il comportamento dei repubblicani finora era stato appunto stigmatizzato da Trump che ha cercato in tutte le maniere di far capire ai repubblicani che appiattirsi sulle posizioni dei democratici non è certo il miglior modo per guadagnare consensi. Come detto, gli americani non ne possono più di tutti questi miliardi di dollari che vanno per la maggior parte a finire nel paese più corrotto del mondo. Ed ecco allora che nei giorni scorsi un gruppo di senatori e deputati repubblicani hanno annunciato la loro intenzione di non votare a favore della richiesta di altri fondi all'Ucraina inviando una lettera al direttore della divisione budget della Casa Bianca del quale adesso vi leggo un brevissimo stralcio. I cittadini americani meritano di sapere dove sono andati a finire i loro soldi. Come sta procedendo la controffensiva? L'Ucraina è più vicina alla vittoria rispetto a quanto lo fosse sei mesi fa? Qual è la nostra strategia e qual è il piano di uscita del Presidente? E in conseguenza di questa lettera quindi l'amministrazione americana, l'amministrazione Biden doveva inventarsi che la controffensiva Ucraina stava registrando successi incredibili sul campo. Successi che avrebbero così giustificato l'erogazione di nuovi fondi, appunto questi 24 miliardi di dollari. Serviva una notizia eclatante, cioè la Russia allo sbando con perdite umane importanti. Ed è stata quindi diramata la notizia che venerdì scorso ci sarebbe stato un attacco da parte dell'Ucraina al quartier generale della flotta russa in Crimea. Ieri l'Ansa annunciava a caratteri cubitali, il comandante della flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea. E quindi veniva poi precisato, lo assicurano le forze ucraine per le operazioni speciali, come riporta RBC Ucraina, Sokolov sarebbe morto nell'attacco di venerdì scorso al quartier generale della flotta nella Crimea occupata. Nel complesso 34 ufficiali sono stati uccisi, tra cui Sokolov. Si legge nel messaggio, altri 105 russi sono rimasti feriti. Allora, scusate, ma chi è che può credere a una fandonia del genere? Io capisco che devono inventare delle balle, ma anche le balle dovrebbero essere minimamente credibili. Invece, veramente, qua ci trattano come idioti. Perdonatemi, ma riflettete un attimo. Dicono di aver fatto un attacco missilistico al quartier generale della flotta russa in Crimea. Bene, allora, tanto come fanno a sapere di aver ucciso il comandante Sokolov? Ma questo è il minimo. Ci dicono che hanno ucciso 34 ufficiali, neanche soldati, così, o neanche una trentina, proprio 34 e tutti erano ufficiali. Allora mi chiedo, ma come fanno a fare una simile affermazione? Quindi, avevano lì nel quartier generale della flotta russa i loro uomini che stavano lì a contare quanti erano i morti e in particolare quanti ufficiali li riconoscevano naturalmente dalle stellette che portavano sulla divisa. E poi, 105 feriti, nemmeno un centinaio. No, 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 sono proprio precisi. E allora se ne deve sempre dedurre che gli ucraini erano lì all'interno del quartier generale della flotta russa che hanno cominciato la conta. Uno, due, tre, e poi 103, 104 e 105. Ecco, questi qua sono i feriti. Dai, insomma, adesso, come si fa? Ma davvero ci trattano da depensanti? Naturalmente, non solo l'Ansa, ossia la nostra agenzia di stampa, ma anche tutti i nostri giornali, 19 ore fa, titolavano tutti allo stesso modo. Vi dico solo il titolo di Repubblica. «Flotta del Mar Nero senza il comandante». L'annuncio di Kiev, Sokolov è morto. 16 ore dopo, ossia tre ore fa, Sky TG-24. «Russia, Sokolov sarebbe vivo?» Comandante flotta Mar Nero apparso in un video. Inoltre, il portavoce della Presidenza russa ha precisato che il fantomatico attacco al quartier generale della flotta nel Mar Nero non avrebbe avuto alcun effetto concreto se non piccoli danni architettonici. Ma torniamo a noi. Ovviamente è una mia deduzione, ma questa notizia della, attenzione, «Decapitazione della flotta russa», questo è il titolo del giornale della famiglia Berlusconi e anche dell'Huffington Post, quindi lascio a voi ogni commento che il giornale e l'Huffington Post abbiano tutte e due lo stesso titolo. Vabbè, questa era una notizia che serviva a Biden per giustificare gli ulteriori 24 miliardi di dollari che vuole inviare all'Ucraina. Ah, naturalmente va ricordato che parte di quei 24 miliardi di dollari poi gli ritornano indietro a Biden tramite il figlio. Ma ora chiediamoci quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale shutdown negli Stati Uniti. Allora, una conseguenza sembra certa. Ossia, anche l'ultima società di rating che si ostina ad attribuire al debito degli Stati Uniti la AAA, ossia Moody's, ha già anticipato che dovrebbe prendere in esame un downgrade, come da tempo hanno già fatto le altre due più importanti società di rating, ossia Standard & Poor's e Fitch. Tuttavia, sui mercati accade un fatto che pare difficile da giustificare. Il dollaro continua ad apprezzarsi. Dal 17 luglio la moneta americana continua a rivalutarsi praticamente rispetto a tutte le altre monete. E allora, per capire insomma anche questi misteri non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere come si concluderà questa vicenda dello shutdown che vi assicuro non è assolutamente da sottovalutare.